Ave legionari. Una domanda scomoda, ovviamente orribile, però che ci è stata fatta più volte e necessaria. I legionari caduti sul campo di battaglia, quindi i morti, che fine facevano? Venivano seppelliti? In che modo? Con quali rituali? Come gestivano questa parte orribile, questa parte agghiacciante della guerra i romani? In questo breve documentario, fonti antiche spulciate alla mano, vi daremo una spiegazione. Grazie a tutti. Cominciamo col dire che la morte sul campo di battaglia nella cultura romana è qualcosa di assolutamente glorioso. Tutta la storiografia romana, tutta anche l'epica romana, parla della morte sul campo di battaglia come di un gesto che porta quasi all'immortalità del legionario. Abbiamo il singolo soldato che compie un atto eroico e magari salva un suo commilitone. Abbiamo alcuni racconti di centurioni che si immolano e decidono di sacrificare la loro vita durante il combattimento. Per esempio è il caso del centurione Giuliano durante l'assedio di Gerusalemme del 70 d.C. E qua vi metto il link perché abbiamo fatto un breve video su di lui. Addirittura esiste proprio la cosiddetta devozio, cioè una pratica religiosa per cui il generale romano sul campo di battaglia sacrifica la sua vita agli dei mani per ottenere in cambio il loro appoggio e vincere la battaglia. E uno dei casi più famosi in assoluto, la devozio, il sacrificio di Decio Mure, il console che durante la battaglia del Sentino si sacrifica per salvare il suo esercito e ottenere la vittoria. E anche di questo vi mettiamo un link per approfondire. Quindi la morte sul campo di battaglia per i romani è il modo più glorioso e memorabile di morire. E tra l'altro i romani ritenevano che i legionari morti sul campo di battaglia raggiungessero effettivamente un aldilà e un destino assolutamente glorioso. Ad esempio Virgilio nella sua Eneide dice che i legionari morti in battaglia raggiungono una terra beata e quindi dà questa immagine meravigliosa dell'aldilà per chi ha sacrificato la vita per Roma. C'è anche Cicerone. Cicerone in una delle sue più importanti opere, cioè le Filippiche contro Marco Antonio, dice gli uomini che cadono sul campo di battaglia saranno accolti dal dio Marte e saranno per sempre venerati e onorati come uomini giusti e pii, cioè in mezzo agli dei, riconosciuti dagli dei. C'è poi un'altra conferma che viene da Giuseppe Flavio che nel racconto delle guerre giudaiche tra ovviamente romani e giudei dice che a un certo punto l'imperatore Tito in persona abbia ricordato ai legionari che sarebbero morti sul campo di battaglia che sarebbero diventati immortali. Avrebbero raggiunto le stelle, nel senso proprio fisico del termine, e quindi sarebbero sempre rimasti nel firmamento assieme ai gloriosi dei che proteggevano Roma. Quindi c'è tutta una narrazione della morte sul campo di battaglia gloriosa per i romani e questa è la loro convinzione, la loro cultura, che permetteva anche di avere un certo sprezzo del pericolo. Però, diciamo, a livello più pratico sul campo di battaglia, cosa succedeva? Allora, in realtà noi dobbiamo andare a spulciare le fonti perché le pratiche di come si gestivano i cadaveri dopo una battaglia non vengono descritte in maniera precisa e diciamo puntuale. Era qualcosa, anche se orribile, qualcosa di routine per l'esercito. Quindi tutto ciò che è di routine difficilmente viene raccontato punto per punto. Abbiamo però una certezza. In tutto il mondo antico e anche nel mondo romano ovviamente i morti vanno seppelliti. Non seppellire i morti è l'atto sacrilego per eccellenza, è la cosa più grave che si possa fare, è il massimo affronto. Quindi la cultura, la religione romana dice di seppellire assolutamente i morti sul campo di battaglia. E una piccola conferma nelle fonti antiche che noi abbiamo di questa pratica deriva dai commentari di Giulio Cesare. Perché lui dice che nel 58 a.C., dopo la battaglia di Bibracte contro gli Elvezzi, aveva ritardato l'inseguimento degli Elvezzi di ben tre giorni perché doveva curare i malati e seppellire i morti. Questa è un pochissimo frammento che però ci fa capire come ovviamente seppellire i morti fosse assolutamente la routine per l'esercito. Quindi rispondiamo alla domanda, i romani seppellivano regolarmente i morti dopo le battaglie. Questo è assolutamente sicuro. Poteva capitare dopo delle grandi sconfitte, quando non c'era il tempo, quando il nemico aveva vinto, quando non c'era la possibilità di lasciare i morti insepolti, ma era sempre a seguito di una sconfitta, in una situazione di impossibilità di farlo. È chiaro che l'etica romana prevede la sepoltura. Quello che invece, diciamo, è un po' lontano dal nostro modo di pensare è la modalità con cui venivano seppelliti, nel senso che i romani seppellivano in realtà i morti in fosse comuni e con, diciamo, un funerale globale, con dei riti globali. Questo è molto lontano. Noi oggi riteniamo le fosse comuni la maniera più disgustosa di seppellire i morti in guerra. E poi siamo soliti tributare per ogni soldato un funerale e una croce. Se voi andate nel memoriale dello sbarco di Normandia, trovate delle enormi distese di croci, una per ogni soldato, perché fa parte della nostra cultura che ogni soldato dovrebbe avere la sua croce. Ecco, per i romani no. I romani seppelliscono i loro soldati in enormi fosse comuni con un rito globale, senza un funerale per ogni singolo legionario. Questo ovviamente perché durante una campagna militare, se hai 10-15 mila morti, devi necessariamente risolverla in questo modo. C'è da dire che questo metodo molto brutale di seppellire i soldati era comunque compatibile con la religione romana. Nel senso che Cicerone, in una delle sue opere, il De Legibus, ci dice chiaramente che bastava che il corpo fosse sepolto dalla terra per essere sepolto in maniera adeguata secondo la religione romana. Non era necessario che ogni soldato avesse un suo funerale. Quindi dovete sapere che la modalità era abbastanza brutale. E ne abbiamo una conferma, diciamo ci sono due grandi conferme. La prima è sul luogo della battaglia di Teutoburgo, a Calcriese, dove effettivamente, anni dopo la sconfitta di Teutoburgo, arriva il generale germanico e dà una degna sepoltura ai legionari. Ma sono sepolti in fosse comuni, cioè sono sepolti sostanzialmente, diciamo, in grandi spazi di sepoltura che valgono per tutti. Poteva anche capitare una sorta di variante, diciamo così, cioè la cremazione dei soldati e poi la loro inumazione. C'è infatti Plinio il Vecchio che nella sua Naturalis Historia ci dice che già nel primo secolo dopo Cristo era abitudine, capitava spesso che sui campi di battaglia ci fosse una grande cremazione dei corpi dei legionari che poi venivano inumati, ovviamente con tutti gli onori, ma sempre in maniera globale. Quindi questo era il metodo abbastanza brutale e abbastanza, a volte possiamo dire, sbrigativo, con cui però bisognava seppellire i legionari durante una campagna militare molto delicata. Un'altra cosa molto lontana dal nostro modo di pensare è il ritorno delle salme. Noi oggi consideriamo il ritorno a casa, nella famiglia delle salme, come qualcosa di sacrosanto, come qualcosa che dobbiamo fare appena possibile. I romani invece no. Poteva sicuramente capitare una cosa del genere per i grandi generali, per i grandi nomi. Capita, non so, Annibale fa ritrovare il corpo del generale Claudio Marcello per rendergli tutti gli onori. Sicuramente ci sono dei casi, ma sono sempre relativi a grandissime figure. Il legionario normale non veniva, il legionario di truppa non veniva restituito alla propria famiglia. E questo in realtà per due motivazioni prettamente pratiche. La prima, e questo ce lo dicono sia Polibio che Cicerone, perché potevano poi nascere una sorta di lotta tra le famiglie per fare il funerale più maestoso, magari contro famiglie avversarie. Quindi poteva, diciamo, creare delle ostilità e delle competizioni tra le grandi famiglie aristocratiche. Quindi si evitava di restituire la salme proprio per questo motivo. E poi anche per non incidere negativamente sul morale dei romani. Perché è chiaro che se dopo una battaglia i romani avessero visto 5-10.000 salme rientrare, questo avrebbe avuto un effetto devastante sulla psicologia, sul morale dei romani e della cittadinanza. Quindi per motivazioni pratiche, diciamo che la cultura romana fa sempre prevalere la pratica sulla teoria per motivazioni prettamente pratiche e non c'era l'abitudine di restituire le salme alle famiglie ma di seppellirle direttamente sul luogo di battaglia. Per quanto riguarda, e concludiamo, la memoria del legionario, ecco questa è, diciamo, quello che ovviamente è più interessante nel lungo periodo. Cioè come persisteva la memoria di un soldato romano? Diciamo che lo stato romano registrava tutti i suoi morti, registrava i morti, le unità, le cohorti che erano state cancellate o che erano ovviamente morte durante un combattimento, quindi aveva un registro dei caduti abbastanza preciso. Diciamo che però lo stato romano a livello di comunicazioni, di propaganda, non fa, questa è un'altra differenza, non fa un elenco dei morti. Cioè noi oggi molto spesso troviamo dei monumenti con l'elenco dei caduti e onoriamo quell'elenco dei caduti, cerchiamo di ricordarne i nomi. I romani questo tendenzialmente non lo facevano, sempre con qualche eccezione ma il più delle volte non lo facevano, perché in questo modo avrebbero ricordato i caduti alla loro cittadinanza. I romani preferivano celebrare le vittorie, quindi negli archi di trionfo, nei monumenti celebrativi. Noi troviamo la vittoria di Roma, i soldati romani che vincono la battaglia finale, vincono la guerra e hanno ottenuto il loro risultato. Raramente trovi un ricordo di quanti morti sono caduti e quindi questo di nuovo è un atteggiamento molto pratico da parte dello stato romano, che ha bisogno di fare propaganda per lo stato, di dare forza ai propri cittadini e quindi di far vedere sempre una Roma vincente, che non si sofferma sui morti, si sofferma sulla vittoria. E tanto è vero che la memoria del singolo legionario in realtà viene custodita privatamente dalle famiglie. La famiglia del legionario caduto, una volta venuta a sapere della triste notizia, se aveva abbastanza soldi pagava un epitaffio e allora veniva creato e ovviamente posizionato un epitaffio in onore del legionario caduto, dove si ricordava il suo nome, il suo grado, il suo ruolo, l'anno in cui era morto, più che l'anno in cui era morto quanti anni aveva vissuto, questo è anche un'altra parte della mentalità romana, si ricordava sempre quanti anni era vissuto, le caratteristiche del carattere, uomo forte, uomo leale, vero amico, ecco questo era il modo con cui le famiglie ricordavano i legionari che tra l'altro non volevano essere ricordati come dei killer, ma come degli esportatori della civilizzazione romana, costruttori di infrastrutture, fondatori di città, ecco questo era un altro elemento molto importante che troviamo negli epitaffi dei romani, oppure se la famiglia non era proprio ricca lo stesso legionario in vita dava una parte del suo stipendio pagato normalmente due o tre volte all'anno a una sorta di associazione privata che poi in caso di morte pagava la creazione di un epitaffio e quindi c'era questo metodo con cui i legionari si garantivano un epitaffio degno di loro in caso di morte. Quindi come vedete i romani avevano un approccio estremamente pragmatico e allo stesso tempo rispettoso delle divinità, rispettoso della propria cultura, ma sempre nel mondo romano prevale l'aspetto pragmatico, cioè prevale tutto ciò che può portare alla vittoria, a mantenere il morale alto, a essere efficiente sul campo di battaglia, a raggiungere il proprio obiettivo militare. Speriamo quindi di aver risposto a questa domanda che ci è stata fatta tante volte ed era effettivamente una curiosità molto importante da chiarire. Normalmente noi minacciamo simpaticamente e dico se non vi iscrivete al canale vi succederà questo, vi succederà quello, avendo parlato però di un fatto comunque relativo ai cadaveri, ai morti, editiamo questa volta, speriamo vi vogliate iscrivere per simpatia perché il nostro canale vi è utile, quindi un caro saluto e al prossimo documentario.